A seconda della versione, la nuova espassa è dotata di un regolatore di velocità adattabile che è possibile attivare tramite il pulsante centrale sulla console. Una spia verde si accende e viene visualizzato il messaggio Regolatore di velocità sul quadro della strumentazione per indicare che la funzione è attiva. Il regolatore di velocità adattabile consente di mantenere la velocità scelta e una distanza di sicurezza dal veicolo antistante sulla stessa corsia. Consente di frenare il veicolo a un terzo della capacità frenante, quindi, a seconda della situazione, il conducente può incrementare la frenata. È possibile modificare la velocità di riferimento tramite i comandi di regolazione al volante.